Il primo rappresentante di Conway Hall Il primo rappresentante della più importante linea stalloniera oggi negli Stati Uniti Uno stallone che rappresenta una genealogia americana di primo livello con McLobel in linea materna Un ideale outcross per gran parte delle fattrici italiane Uno stallone con una carriera agonistica breve ma intensa con vittorie e piazzamenti in gruppo 1 Un corridore autentico con il record mondiale per un tre anni sulla media distanza Grazie 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 Grazie